Come Fraternità Capuccina vogliamo annunciare un evento che ormai è tradizionale legato all'attività e alla vita di questo santuario che è il perdono del Gargano che cade il primo luglio legato alla possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria concessa alla nostra chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Come sapete questo evento è preceduto da un cammino pellegrinaggio che collega il santuario di San Michele Arcangelo a questo santuario di San Pio. Oggi annunciamo ufficialmente che anche quest'anno ci sarà questo evento e sarete informati sulle varie iniziative e sulle varie tappe che ci preparano a questo momento importante. Ecco insieme vogliamo pregare e affido a tutti quanti voi questa Fraternità Capuccina perché possa trovare forza, vigore, coraggio ecco sempre nell'annunciare il Vangelo e nel mettere in atto iniziative come questa. Se il sogno è vero sarà verità, se il sogno è giusto giustizia sarà, se il sogno è pace la pace verrà e avrà gli occhi tuoi sarà come tu la vuoi. Grazie a tutti.